come le sembra stia andando questa fiera 2019 sinceramente per essere il martedì franco vedo poca gente anche come orario però meglio per me insomma ho scelto l'orario giusto per essere tranquilla mangiare magari qualcosa comunque fa sempre piacere vedere movimento quello sì sono appena arrivata ma c'è da bambanare tanto da guardare tante cose è molto movimento belle giornate piene di sole tanta gente che ha voglia di fare acquisti siete stati contenti molto contenti quest'anno sicuramente meglio dell'anno scorso tornerete il prossimo sicuramente non manchiamo mai non sono dici anni che siamo qui ormai l'andira e mancano un po di bancarelle però dai tutto sommato anche parecchia gente ho visto quindi direi positivo cosa avrebbe voluto trovare che non ha trovato ma direi niente perché mi pare ci sia di tutto quindi direi dai che non manca niente baila oddio penso abbastanza bene perché vedo la gente che cammina che noi abbiamo mangiato la nostra piadina si 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 sempre andiamo sempre da quello ogni anno è eccezionale per me non è che funziona tanto tutto diverso bellissima è bellissima sì come si riconferma sempre valida sempre ottima anche le giostre ha certo comunque è sempre una bella attrattiva ma guarda io direi verità sono anni che vengo qui a rovigo ringraziando a dio cerco di rispettare la gente mi trovo veramente bene ma è uguale lo dico sinceramente almeno per quello che mi riguarda poi ognuno fa quello che vuole insomma bellissima bellissima allora a me diverte sempre un sacco la fiera devo dire la verità mi piacciono le lucine colori le mandorle è bello e tante bancherelle messe in ordine erano molto ordinate e anche l'abbigliamento mi è piaciuto moltissimo e anche le piadine soprattutto quelle sono mitiche e poi tanta gente tanta gente e il caldo è stato numero uno forza favorito secondo me alla fiera io premetto che è la prima volta che vengo alla fiera e però mi sembra che ci siano delle belle cose niente stasera prova a venire a mangiare in fiera e prodotto a fiera 2019 secondo me è quel marsupio magico la perché ce ne sono credo almeno tre o quattro bancherelle e oltretutto comodissimo io non l'ho preso qui ma ne ho ben due per correre è meraviglioso la bella però tanta gente però poco poca qualità ecco diciamo anche se ne abbiamo portato una bella novità quest'anno è andato molto bene è stato un successo però in realtà sento un pochettino in giro che non è proprio per tutti così abbastanza piena di gente o no non lo so stamattina non vabbè insomma non c'è stato tanto movimento però sta bene domenica ci sono state molte presenze come sempre ma è sempre uguale comunque insomma le bancarelle sono tante è molto carino il ritrovo per tutta la gente è un ritrovo per tutta la gente un'usanza molto carina sempre bella o mamma proprio mi questa domanda cosa più bella con mali piedi incredibili perciò non vedo ora andare a casa non mi piace niente non mi piace niente la gente ci si diverte c'è tanta roba da vedere siamo appena arrivati qui appena finito di lavorare poi quindi ci vediamo 13 minuti così lo diciamo quando prendiamo il giro la gente tanta gente tanta allegria questi mercati che sono in alternativa ai mercati ormai telematici del dell'amazon piuttosto che di altre e la folla stare in mezzo alla gente prego